L'hanno trovata senza vita lo scorso mercoledì nel letto della sua casa, quella che da qualche tempo divideva con Claudio, l'uomo che aveva sposato solo un anno fa e con il quale aveva scelto di vivere a Bassano. È morta all'improvviso, ad appena 30 anni, Sara Tomaselli Paolin, originaria di Levico Terme in Trentino. Una donna espansiva, con idee chiare e piena di talento, la ricorda chi l'ha conosciuta. Una giovane che amava l'arte e la creatività, passioni che era riuscita a far diventare il suo lavoro, perito in artigrafiche, aveva proseguito gli studi laureandosi in beni culturali, competenze che aveva poi utilizzando e iniziando a lavorare in un'azienda attiva nel mondo dei social. Da qualche tempo Sara combatteva con una malattia, ma la sua scomparsa improvvisa ha lasciato tutti senza parole e nel dolore due comunità, quella di Cabaroncello, dove viveva, e quella di Levico Terme, dove aveva vissuto buona parte della sua vita. I funerali di Sara Tomaselli Paolin si terranno il prossimo lunedì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Levico Terme.